Signori, buonasera, avrei voluto bermi il mio bicchierino di vino rosso, rilassarmi sul divano e magari andare a dormire e tac, trade si accam, che va agli Indiana Pacers in cambio di Bruce Brown, Peek e compagnia cantante parliamone in questo video in cui cerco di dare un filo conduttore a quella che è stata la trade calando magari anche in quello che è stato il pensiero dietro a questa trade per cui, signori, direi di partire adesso Ed eccoci qui in modalità reaction semplicemente per fare un commento a quello che è appena successo o almeno a quello che succederà ufficialmente tra qualche ora, presumibilmente, forse meno ovvero la trade che manda Pascal Siacam agli Indiana Pacers coinvolti nello scambio Bruce Brown e Jordan Nuora come giocatori dei Pacers, tre first round pick e ne parleremo Kyra Lewis che arriva dai Pelicans a Toronto, i Pelicans che entrano come terza squadra in questo contesto in realtà non è uno scambio a tre squadre, è uno scambio a due e i Pelicans entrano in un ulteriore scambio cioè sono due scambi separati per comodità li ho messi tutti e tre all'interno della stessa finestra ma anche in realtà ancora da capire che cosa riceveranno i Pelicans in cambio probabilmente delle pick al secondo giro, mi verrebbe da dire, non di più perché i Pelicans si sono inseriti all'interno di questa situazione perché liberandosi del contratto di Kyra Lewis scendono sotto la luxury tax quindi semplicemente per pagare meno a livello di tassa di lusso NBA, molte squadre fanno questo sempre e comunque a ridosso della deadline i Pelicans hanno approfittato del movimento tra Pacers e Raptors per infilarci dentro Kyra Lewis che andrà ai Toronto Raptors l'effetto ulteriore di questa trade è il taglio da parte degli Indiana Pacers di James Johnson che avevano firmato ma che in realtà non ha mai giocato per cui insomma queste sono le conseguenze aspettiamo di capire che cosa arriverà ai Pelicans ripeto, molto probabilmente delle pick al secondo giro per il momento analizziamo quel che è successo Pascal Siacama è un nuovo giocatore degli Indiana Pacers Indiana Pacers che visto l'andazzo, visto l'esplosione di Aliburto e comunque il tipo di gioco sono diventati un mercato apprezzato da possibili giocatori, free agent, giocatori scontenti e lo possiamo vedere chiaramente qualcuno dirà tre first round pick per un contratto in scadenza Indiana non fa questa cosa qui se non è sicura che Pascal Siacama firmerà e rimarrà agli Indiana Pacers per cui io non ci vedo tutta questa grande preoccupazione sul fatto che Siacama possa non restare ai Pacers alla fine di questa stagione come non ci vedo un grande scandalo nelle tre first round picks perché andiamo ad esaminarle sono una pick non protetta del prossimo draft degli Indiana Pacers che presumibilmente non sarà una pick da lottery perché i Pacers hanno serie possibilità anzi concrete possibilità di arrivare in post season quindi sarà una pick diciamo dalla 15 in giù c'è poi una seconda pick al prossimo draft che arriverà da Houston, Oklahoma City, Clippers o Utah Jazz anche in questo caso si tratta di una pick nella seconda parte insomma bassa per quanto riguarda il prossimo draft e poi una pick, first round picks questa sì degli Indiana Pacers è una pick del 2026 che però è protetta 1-4 qua ho messo top 5 protetta perché non c'è su Fanspo la possibilità di dire protetta top 4 però tenete presente che se dovesse essere una pick tra le prime 4 rimarrebbe agli Indiana Pacers dalla 5 in giù sarebbe dei Toronto Raptors ed è plausibile che possa essere un'altra pick comunque tendenzialmente bassa visto l'età media degli Indiana Pacers e le prospettive di crescita che ha il roster guidato da Rick Carlyle i Pelicans si inseriscono Kyra Lewis va ai Toronto Raptors ovviamente si tratta di tutti i contratti in scadenza perché Bruce Brown che prende 22 milioni quest'anno ha una team option per l'anno prossimo significa che decidono i Toronto Raptors se confermargli il contratto anche per la prossima stagione da 23 milioni o se lasciarlo libero la verità è che Bruce Brown diciamo al 80% 85% non rimarrà a Toronto nel senso che verrà ulteriormente mosso verso altri lidi perché non ha realmente senso la presenza di Bruce Brown in una squadra come i Toronto Raptors poi magari gli confermano il fatto che l'anno prossimo eserciteranno la team option lui magari decide di restare chi lo sa però la probabilità più probabile in questo momento è che Bruce Brown possa essere tradato quindi ceduto altrove a ridosso della trade deadline per quanto riguarda Siakam Siakam 29 anni quasi 23 punti di media oltre 7 rimbalzi quasi 5 assist un giocatore che è stato un punto fondamentale per il titolo dei Toronto Raptors nel 2019 un giocatore a cui è stato offerto un contratto da primo violino ma non è un primo violino e lo abbiamo potuto vedere insomma negli anni e nelle annate post titolo nonostante comunque le stat line siano sempre state comunque di alto livello va in una squadra che gioca col pace più alto della Lega e se dovesse insomma rispettare quelle che sono le attese può dare chiaramente sia attacco che difesa comincerà ufficialmente la sua carriera i Pacers da power forward quindi da alla grande in un contesto in cui ovviamente mantenendo Buddy Hield avendo Ali Burton avendosi Siakam avendo Miles Turner questa è una squadra che può mirare un minimo a dar fastidio in postseason sicuramente ad arrivare in postseason ma anche a dar fastidio perché comunque è una squadra completamente può far sorprese su singola partita può veramente battere chiunque perché insomma lo abbiamo visto avendo raggiunto la finale dell'inseason tournament battendo i Celtics battendo Milwaukee battendo nel girone tutte le squadre favorite est insomma è una realtà emergente e ha un grande allenatore Enric Carlyle un allenatore che ha già vinto il titolo con i Dallas Mevs un allenatore dalla grande esperienza un allenatore che ha dato il suo timbro a questa squadra Pascal Siakam ripeto 29 anni è chiaramente fuori dalla timeline attuale della Liburton della situazione del Maturin e dei giovani degli Indiana Pacers ma è un giocatore che ti può far crescere subito notevolmente almeno in quanto a prospettive presente nel medio presente nell'NBA è un giocatore che ti pone a livello delle principali contender a est chiaramente non lo è non lo è perché Miluocchi Boston e tendenzialmente anche Philadelphia sono squadre superiori hanno giocatori che ti fanno molto più la differenza di Siakam ma è sicuramente e può essere sicuramente un primo step verso qualcos'altro verso qualcos'altro perché gli Indiana Pacers sacrificano tre first round picks ma hanno tanti giocatori giovani ripeto interessanti che possono essere asset di mercato hanno il contratto di Buddy Hield in scadenza hanno ovviamente in Tyrese Aliburton scoperto un leader massimo per i prossimi probabilmente dieci anni e quindi insomma l'idea degli Indiana Pacers è quella di prendere un giocatore dinamico attacco e difesa che sia in grado di correre e di andare senza problemi al pace proposto da Aliburton e quindi dagli Indiana Pacers in questa stagione senza sacrificare le altre pedine esperte del roster che sono essenzialmente Miles Turner e Buddy Hield per quanto riguarda Toronto ovviamente sono tre first round picks e tre contratti in scadenza semplicemente Toronto ha già fatto la sua scelta riparte da Scotty Barnes e da due giocatori di 24 anni circa ovvero Barrett e Quigley che sono arrivati dalla trade a Nunobi quindi in sostanza a Toronto della squadra da titolo rimane solo Chris Boucher che non sarei stupito di veder partire prima della deadline Toronto entra in un'ottica di rebuild ma è una rebuild comunque avanzata perché Scotty Barnes ti sta dando un certo tipo di garanzie e perché comunque la scommessa su Barrett e Quigley per ora sta pagando in termini di statistiche offerte dai due nuovi arrivi in quella del Canada Toronto tra l'altro RJ Barrett è di Toronto è canadese quindi potrebbe diventare un fan du pays potrebbe avere ulteriori stimoli nel far bene in Canada come detto credo insomma sono abbastanza fiducioso sul fatto che Bruce Brown non rimarrà ai Toronto Raptors verrà rigirato ora della deadline a un qualche altra squadra e attenzione perché comunque inizia si vede che ci stiamo avvicinando alla trade deadline e iniziano a esserci dei rumor interessanti come ad esempio le possibilità di Atlanta di far fuori tutti un PJ Tucker che è sicuramente in uscita dai Clippers e i Suns e i Bucks sono lì a monitorare ora avrà 150 anni ma è comunque un giocatore che ti può dare qualcosa in più nella metà campo difensiva ed io solo sa quanto serva sia a Milwaukee che a Phoenix aumentare l'effort difensivo della propria squadra e poi sempre i soliti mercati quindi Chicago Bulls e vediamo se i Raptors hanno finito oppure se prima della deadline anche altri asset altri giocatori come Gary Trent Junior o magari anche lo stesso Jakob Pult potrebbero muoversi è venuto fuori anche un interesse lo preannuncio qua dei Dallas Mavs nei confronti di Andrew Wiggins che sta giocando una stagione pessima a Golden State torniamo al mercato però perché insomma più ci si avvicina all'otto di febbraio che è la data finale per le trade NBA e più ci saranno rumors a riguardo per quanto riguarda PJ Tucker ho accennato prima c'è l'interesse degli Washington Wizards non perché vogliano tenere Tucker e farlo giocare ma perché Washington è una squadra che può garantirgli il buyout in tempi molto brevi e quindi una volta libero può firmare più o meno con chi vuole la trade Siacam è questa qui per il momento attendiamo di sapere che cosa arriverà come contropartita ai Pelicans ripeto la cosa più probabile sono delle picca al secondo giro perché l'interesse dei Pelicans non è tecnico ma è quello di liberare lo spazio salariale per scendere sotto la luxury tax e poi pian pianino vedremo giorno dopo giorno i vari rumors che si susseguiranno nei prossimi giorni arriverà ovviamente un che si dice in cui si parlerà ulteriormente di questa trade magari sapendo anche lo step finale e di tutti i vari rumors che stanno uscendo in questo momento in NBA direi che è tutto qui ditemi la vostra su come vedete Pascal Siacam agli Indiana Pacers chi ha vinto questa trade o eventualmente se Indiana ha sacrificato troppo per Siacam io ho cercato di dare una panoramica il più completa possibile ripeto non sono il buon Teddy quindi non so i cavilli non posso immaginare cose però insomma posso ipotizzare che ovviamente le tre pick le tre first round picks che hanno dato ai Raptors saranno tendenzialmente basse a livello di draft nel senso alte a livello numerico non basse non saranno le prime 2026 ripeto è protetta 1-4 e essenzialmente ha sacrificato un giocatore di rotazione ovvero Bruce Brown perché Jordan Nuora giocava veramente poco per portarsi dentro un giocatore da quasi 23 punti di media campione NBA 29 anni è un giocatore che ti può dare notevole impatto sui due lati del campo Indiana diventa improvvisamente la squadra a battere assolutamente no assolutamente no ma ha un'idea ben precisa in testa probabilmente e magari non è finita qui quindi attendiamo di capire che cosa succederà ragazzi finisce qua ditemi la vostra un saluto il Franz grazie a tutti